Paolo Calabresi e Alessia Marcuzzi potrebbero stare nuovamente insieme. Ovviamente ci sarebbe in caso questo ritorno di fiamma tra loro due, o semplicemente può essere anche un riavvicinamento tra due persone che semplicemente si vogliono bene, tutto può succedere. Ma le foto in esclusiva di gente mostrano i due nuovamente insieme e lo mostrano a forma intera. L'isola che per otto anni li ha visti felici, sorridenti, tra baci e bracci e tante cose belle. Per il settimanale diretto da Umberto Brindani questo ricongiungimento sarebbe fortemente voluto da Calabresi, che dopo la rottura si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l'ex moglie. E ora quel sogno forse l'ha realizzato? Tra passeggiate al tramonto, nuotate e momenti di intimità. Come interpretare la mano di lui sulla schiena di Alessia, se non il timido e garbato tentativo di un uomo innamorato di riaccendere la passione? Insomma, la separazione annunciata solo un anno fa sembra possa essere superata dai due dalla voglia di riprovarci. Tornare a essere come prima. Alessia e Paolo si conoscono da una vita, da quando avevano 20 anni. Poi dall'amicizia si è passati all'amore, all'altare nel giro di un anno. Un matrimonio nel 2014 celebrato a sorpresa in Inghilterra. Nel 2019 le voci di crisi, la presunta relazione con Stefano De Martino, è sempre negata da lei. Poi un nuovo, presunto flirt col ballerino 32enne Jody Proietti. Anche questo mai confermato dalla conduttrice pronta a ripartire su Rai 2 con il cuore nuovamente aperto, consegnato ancora una volta nelle mani del suo Paolo. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.